Le indagini degli inquirenti sulla sparatoria di Faravicentino continuano e vedono coinvolti anche i detective dell'antiterrorismo. In queste ore si sta cercando di fare chiarezza su chi fosse Sufian Boubagoura, il cittadino marocchino di 28 anni che lunedì è stato ucciso dai carabinieri nel conflitto a fuoco in via Crosara, nel quale è rimasto ferito in modo grave anche l'agente di polizia locale Alex Frusti, le cui condizioni di salute sembrerebbero in leggero miglioramento. L'obiettivo degli investigatori è capire se il nordafricano si fosse convertito o meno all'islam radicale. Boubagoura era arrivato in Italia, precisamente in Campania, 12 anni fa, aveva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla questura di Salerno. Nessun precedente eccezione fatta per una segnalazione come assuntore di stupefacenti che risale a qualche anno fa quando era stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. I detective dell'antiterrorismo hanno già individuato l'abitazione di Boubagoura a Villa Raspa di Colceresa raccogliendo le testimonianze della sorella, del cognato e di alcuni suoi connazionali. Intanto la procura ha avviato un'indagine per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso delle armi a carico del vice brigadiere del carabinieri che ha ucciso il nordafricano sparandogli più volte. In attesa di ulteriori chiarimenti, la ricostruzione degli inquirenti ad oggi è che Boubagoura sia stato intercettato intorno alle 10.30 in via Crosara. La pattuglia dei carabinieri di Tiene, composta dal vice brigadiere e un appuntato scelto, gli avrebbe chiesto di fermarsi per accertamenti e qui il nordafricano avrebbe dato in escandescenze. I militari avrebbero utilizzato prima il taser per due volte ma senza risultato, forse a causa del presunto mix di alcol e medicinali. A quel punto Boubagoura avrebbe spinto a terra l'appuntato scelto strappandogli la pistola d'ordinanza e provando a sparare senza tuttavia riuscirci in un primo momento. Poi il giovane sarebbe riuscito ad armare la pistola sparando ben 15 colpi. La della polizia locale nord-est Vicentino, sopraggiunta in quel momento, è intervenuta per aiutare i carabinieri ma tre dei colpi sparati dall'aggressore hanno raggiunto Alex Frusti.